sin da piccola studia danza alla speed, scuola professionale italiana danza, e poi recitazione presso il teatro Carcano di Milano, scuola di Giulio Bosetti, inizia lavorando nella pubblicità, quindi intraprende la carriera d'attrice, recitando nel cortometraggio Dead Train di Davide Marengo, con Antonio Albanese e Claudio Santamaria, e nel mediometraggio La sindrome essenziale di Piero Paracchini, entrambi del 1997, dal 1999 al 2005 e protagonista, con il ruolo di Elisa Bonelli, della sopopera di Canale 5, Vivere, per la quale ha ricevuto due telegatti, 2001 e 2002, Contemporaneamente lavora in teatro, tra l'altro nel collezionista con Giancarlo Zanetti e Laura Lattuada, nell'Avaro di Molière, regia di Econ Gabriele Lavia, Premi Olimpici del Teatro, Miglior Spettacolo Teatrale Italiano 2004, poi nel sogno del principe di Salina, l'ultimo gatto pardo, con Luca Barbareschi, regia di Andrea Battistini, studia e recita alla Royal Academy of the Dramatic Arts, Rada, di Londra, lavorando su Riccardo III, regia di John Beschizza, nel 2007 e autrice, produttrice, e protagonista della sitcom I Pistillini, visibile online, nello stesso anno recita con Lucrezia Lante della Rovere, nella miniserie TV Donna Detective, regia di Cinzia TH Torrini, in onda su Rai 1, Vi recita ancora nel 2009-2010, con la regia di Fabrizio Costa.